Il 7 febbraio prossimo 700 bambini pugliesi fra i 7 e i 10 anni residenti in 32 comuni e provenienti da zone ad alto rischio di dispersione scolastica in condizioni svantaggiate potranno assistere gratuitamente allo spettacolo La Principessa Sirena. Ad offrire un posto a teatro sarà Gas Natural, multinazionale, leader in Spagna e America Latina, fra i protagonisti mondiali dei servizi energetici. La selezione dei piccoli partecipanti verrà affidata direttamente ai sindaci dei 32 comuni interessati, centri già serviti da Gas Natural. La Principessa Sirena, che andrà in scena nel Teatro Petruzzelli di Bari, è una produzione completamente barese ed è la versione italiana dell'omonimo spettacolo presentato in Giappone e a Londra, sempre per la regia di Teresa Lodovico. Un insieme di danza, luci, musica che danno vita a uno spettacolo concepito per far sognare gli spettatori. Gas Natural da tempo guarda al territorio con molta attenzione. Investimenti, mantenimento della sede operativa ad Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, occupazione piena di 180 unità, tutte risorse locali. Siamo una multinazionale, tra virgolette, buona, che investe sul territorio.